Stai ancora pensando ai tuoi amici? A dire il vero, no. Stavo pensando a quello strano tipo di cui ti ho raccontato e alle sue parole. Jurassic Eye. Una farneticazione senza senso. Aveva a che fare con nonno Gabi. Ecco, appunto. Ma che succede? Stiamo attraversando una turbolenza. Tenetevi forte, balleremo un po'. Per tutti i draghi, da dove spuntate voi? John, Bob, Eric, che ci fate qui? Avevamo bisogno di un passaggio. E così ci siamo detti, perché non approfittare del vostro aereo? Ma siete pazzi? Vi siete imbarcati da clandestini. Scusate se interrompo, ma il pilota suggerisce di atterrare al prossimo aeroporto. Preparatevi per la discesa.